salve a tutti i ragazzi bentornati in un nuovo video come vedete la mia vecchia postazione si è spaccata perché era troppo troppo pesante e allora ho optato per mettere dei nobiletti che avevo inutilizzati per i trucchi ora vi faccio vedere come ho sistemato prima qui ho ridotto enormemente poi vi faccio vedere gli altri mobili allora qui dentro ho fatto così è il primo cassetto il primo cassetto l'ho sistemato così qui sono tutti i prodotti per la base e metto il palette che non so più spesso rossetti fissante è un illuminante liquido qua è pieno di campioncini poi qualche palettina occhi qui tutte le mini palette viso cignam wet and wild revolution insomma ce ne sono abbastanza questa sorta di cassettini diciamo testini che ho trovato da leader qui ho messo tutti i miei mascara le scorti prodotti soprici e le scorti ci sono gli obiettivi di shiglam e qua con su due palettine questo questo e questo e questo qua in quello l'otto ho le palette che devo finire che sono quelle più utilizzate e vecchiotte e mi sono messo il progetto di finire nell'ultimo tutto è un po' incasinato perché ho i prodotti in più le scorte di correttori primer ciglia fissanti eccetera eccetera ecco qui procediamo con il primo mobile fatto così lo apriamo e qui ci sono tutte le palette dalle più grandi a quelle di Too Faced sopra c'è questo di Mayani è messa così così la trovo subito che è una delle mie preferite qui c'è quella di Minnie qui ci sono quelle di Revolution 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 praticamente sono quasi tutte di Revolution mentre qui sopra sono quelle di Shiglam e sono quelle di Nabla e sono anche qua ecco abbiamo la Poison Garden e ladrimi di Nabla e ancora me ne vanno abbastanza in quei cassetti sembrava che ne avevo miliardi poi procediamo qui qui si apre così qui ho messo quella grande di Revolution XXL il fornetto delle unghie dei protettini di The Ordinary qui dentro c'è la confezione della plastra e in quest'altro ho messo perché devo fare come si erano rotti le mensoline quindi devo rifarle e per ora ho messo soltanto questi prodotti che comunque non uso spesso i campioncini vari i BB Creme che ora non uso più eccetera li ho messi qua quindi la mia postazione da un mobiletto che era uno due tre più quello vecchio che voi sapevate già